Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 30 marzo, sono le 16.30, quindi metà pomeriggio, ci avviamo verso la conclusione della seduta. Partirei come al solito dalla borsa italiana, dal nostro future Fuzzimib che dopo la violenta discesa avvenuta nella prima parte di marzo sta tentando una timida risalita. Ovviamente non si tratta di una configurazione AV, non si tratta di una configurazione AU, ma semplicemente di un rimbalzo che vedrà la risalita, sì, prima o poi tornare sui massimi di inizio marzo verso il livello 28.000, però non subito. La salita sarà molto lenta e anche tutto sommato incerta con ancora diverse sedute negative, con un'alternanza di sedute positive e negative. Adesso siamo in prossimità del livello 26.500, che è una resistenza che in passato ha già ostacolato i prezzi diverse volte. Vedremo se domani e nella prossima settimana verrà superata rialzo per Ambira ad arrivare al livello 27.000, però non di filata. Credo che assisteremo alla prossima settimana ancora qualche seduta negativa e non c'è da meravigliarsi, non c'è da dispiacersi più di un tanto se le quotazioni dovessero tornare ancora una volta verso il livello 26.000 a modi pullback di questo rialzo che comunque sembra abbastanza impostato bene. Quindi poca velocità, inutile illudersi di un recupero veloce delle quotazioni. Siamo in fase rialzista, è già un aspetto positivo, ma la direzionalità forte, positiva al rialzo ancora è lungi da venire. Quindi più importante concentrarsi nell'intraday cercando di cogliere quelli che sono i vari trend infra giornalieri che ci saranno. E ripeto, non mancheranno quelli negativi. Quindi la parola d'ordine in questo caso è pazienza, a cui aggiungerei anche quello di prudenza. Molto meglio invece l'impostazione del mercato tedesco, indice di riferimento europeo, il DAX che invece sta andando molto bene al rialzo. A differenza di quanto non abbiamo visto prima sulla borsa italiana, qui la media mobile a 25 è stata superata, superata con forza, con un movimento assolutamente convincente e si sta dirigendo, cosa che dovrebbe arrivare la prossima settimana, pur anche qui con qualche seduta negativa, però a livello 15.750-15.800, dove poi lì incontrerà la prima importante resistenza che è rappresentata dall'indicatore super trend. Ma in questo caso siamo, a differenza dell'Italia, appunto molto vicini ai massimi di inizio marzo e quindi diciamo che la negatività è stata già assolutamente, quasi completamente assorbita ed il mercato è decisamente forte impostato al rialzo. La stessa positività si riscontra anche in America, oltreoceano, dando uno sguardo a Wall Street, qui sullo Standard & Poor's 500, che già da diverse sedute aveva superato la media mobile a 25, ha fatto anche un bel pullback sulla stessa media mobile, poi le quotazioni hanno continuato a risalire, prima raggiungendo la soglia psicologica dei 4.000, che è uno spartiacco e molto importante, e proprio nella giornata di oggi, anche superando la prima forte e grande resistenza rappresentata dall'indicatore super trend, che era sul livello 4.073, si sta dirigendo verso la successiva resistenza del livello 4.100. Questo mercato è molto forte, ripeto, anche qui non mancherà qualche seduta negativa, ma poche. Il mercato è forte, il mercato è rialzista, ha spinta, sta recuperando, anzi ha recuperato tutto ciò che aveva perso in marzo e sta andando oltre, sta andando verso le resistenze e a quanto pare ha tutte le intenzioni per andarle a superare al rialzo. Quindi il mercato è decisamente forte, ancora più del DAX, ovviamente più della Italia, quindi sicuramente Nasdaq e Standard & Poor's 500 sono da comprare, qui sono da privilegiare assolutamente anche nell'intraday le operazioni long. Riguardo invece alle commodities, la prima che andrei a analizzare è il petrolio, il crude oil, il WTI. Qui l'analisi che abbiamo effettuato la scorsa settimana si è rivelata assolutamente corretta. È corretta, avevo detto, ci sono registrazioni, basta andare a riguardarle, che il mercato era assolutamente rialzista. Dopo aver trovato a metà marzo un supporto sul livello 65, le quotazioni hanno invertito la rotta e si stanno portando oramai molto vicini, anche se c'è ancora spazio per salire, all'obiettivo che era sul livello 76 dollari al barile, dove passa l'indicatore supertrend. Il mercato è a rialzo, sta lottando proprio ieri e oggi con la media mobile a 25, ma rialzo, la sta superando e quindi c'è spazio ancora per, visto che siamo verso il 74, arrivare al 76, ci sono ancora 2 dollari al barile che possiamo portare a casa aprendo una posizione long anche in questo momento. Ma aggiungo anche che ho l'impressione che questa volta, vista la forza del mercato, e visto che comunque in passato il petrolio aveva oscillato tra livello 72, 50 e 80, e lo aveva fatto per qualche mese, credo che il vero target obiettivo, l'alzista di questo movimento, sia il quota 80. Quindi ho l'impressione che il livello intermedio 76, dove, come ho detto, passa l'indicatore supertrend, venga superato al rialzo. Quindi ci sia un breakout anche di questo indicatore. Ecco perché sono fermamente convinto che anche adesso si faccia ancora in tempo a comprare, che le posizioni long siano da privilegiare, siano ancora convenienti perché il mercato andrà ben oltre il 76 e tenderà ad arrivare a quota 80 dollari al barile. Per quanto riguarda invece l'oro, anche qui l'analisi della scorsa settimana è stata corretta, perché avevo individuato nel livello 2000 dollari l'oncia una resistenza molto importante, una soglia psicologica molto importante. Era per molti trader un po' una chimera, il punto di arrivo del movimento di alzista che sull'oro ci ha accompagnato nelle settimane passate, ma da quel momento poi andare oltre il 2000 poteva sembrare eccessivamente ambizioso. In effetti così è stato perché a 2000 i prezzi si sono fermati. La settimana scorsa avevo detto mi attendo pausa, mi attendo una lateralità, mi attendo una fase di congestione, cosa che si è puntualmente verificata e che credo continuerà anche nelle prossime sedute e la prossima settimana. Quindi mancanza di direzionalità assoluta e invece oscillazioni nell'intraday fra il livello 1950 e il livello 2000, dove per chi è più aggressivo e coraggioso riuscirà nell'ambito intraday a riuscire a cogliere i mini trend di giornata, altrimenti per chi fa trading di posizione o lavora con ETF e ITC, in questo caso di medio-lungo periodo, avrà difficoltà perché il mercato non ha direzionalità. Finché non supera il livello 2000 non si va long e finché neanche si scende sotto il 1950 non ha assolutamente senso aprire posizioni short. Quindi si rimane in attesa di un eventuale segnale operativo, visto che il mercato non ci dà nessun tipo di spunti se non questa noiosa lateralità. Infine uno sguardo al mercato valentario, al principe dei cross, l'euro-dollaro, anche qui devo dire 3 su 6 mercati analizzati individuati correttamente i trend, anche qui avevo detto la settimana scorsa che ci sarebbe stato un trend rialzista, perché il mercato dopo due giornate, il 23 e il 24 marzo, dove aveva fatto un pullback e poi aveva arrestato questa mini discesa proprio in prossimità del livello 1,0750, che in passato era stato 1,07, 1,0750, un'area di resistenza importante, che come dice l'analisi tecnica, tutto ciò che prima era resistenza poi diventa supporto e viceversa, effettivamente lì 1,0750 era un supporto e il mercato poteva rimbalzare. Ha rimbalzato bene questa settimana, oggi in particolare si sta riportando sopra il livello 1,09 ed è diretto verso 1,10 che abbiamo visto in passato. Quindi trend rialzista, forza rialzista, adesso probabilmente ci sarà uno o due sedute di assestamento che potrà far tornare i prezzi ancora verso il livello 1,0875, 1,0850 come pullback, ovviamente ha forti rialzi poi consecutivi come questa, c'è sempre una o due sedute negativa di assestamento, ma il trend è positivo, il trend è rialzista, è chiaro, il mercato è forte, le banche centrali hanno agito in netta al senso e ovviamente non poteva che esserci una forte rivalutazione dell'euro rispetto al dollaro, quindi operatività long da comprare ad ogni storno, ad ogni ritracciamento, sicuramente l'operatività long è quella più conveniente e con l'obiettivo di ritrovarci tutti con l'auti guadagni a livello 1,10. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento all'analisi della prossima settimana e come al solito vi auguro buon trading.